Benvenuto su Italiano Storie, il podcast di storytelling in lingua italiana per arricchire il tuo italiano e la tua mente. Sono Silvia e sono qui per raccontarvi delle storie attraverso le quali far crescere il vostro italiano. Qui si parla di tutto, di racconti, di storie personali, di cultura, di attualità e molto altro. Trovate la trascrizione di questo episodio con un supporto visivo utile alla comprensione e degli esercizi per mettere alla prova il vostro italiano al sito www.italiandolearnitalianwithsilvia.com. Oggi in particolar modo vi consiglio di scaricare il pdf per poter vedere tutte le immagini dei luoghi e dei personaggi della storia. Siete mai stati a Venezia? La città sull'acqua? Come ho raccontato in altri episodi io ho avuto l'incredibile fortuna, direi il privilegio di poterci vivere mentre studiavo all'università. È una città davvero unica nel suo genere che mi affascina ogni volta che ci vado. A Venezia ci sono molti ponti. Se avete visitato questa città le vostre gambe lo ricorderanno sicuramente. Tra tutti questi ponti ce n'è uno che si chiama Ponte dell'Accademia. Se salite su questo ponte potrete godere di una vista pazzesca sul canale grande, la strada d'acqua che attraversa tutta la città. La vista da Ponte dell'Accademia è davvero mozzafiato. Si possono osservare moltissimi palazzi storici che si affacciano sul canale. Tra questi ce n'è uno che ha una storia o meglio una reputazione davvero affascinante e misteriosa. Nell'episodio di oggi vi racconto questa storia o meglio ve la racconta il protagonista. Palazzo Cadario. Sarà lui a prendere la parola fra poco. Prima però vediamo assieme alcune delle parole chiave dell'episodio di oggi. Se volete ascoltare direttamente la storia andate avanti di qualche minuto. La prima parola è bufala, bufala. La bufala è un animale molto simile al bue. È famosa per la produzione di mozzarella di bufala, il formaggio. Questa parola però ha anche un altro significato. Una bufala è una notizia inventata o ingannevole. Insomma una fake news. La seconda parola è proprietario. Proprietario. Io sono la proprietaria della mia macchina. L'ho acquistata e appartiene a me. Sono la proprietaria, insieme al mio compagno, della casa in cui vivo. Io possiedo questi beni, sono di mia proprietà e quindi posso decidere cosa farci. La terza parola è andare in rovina. Andare in rovina. Andare in rovina non è assolutamente bello o piacevole. Quando qualcosa va o cade in rovina crolla, viene danneggiato o distrutto in qualche modo. Una ricca famiglia può perdere tutti i soldi e quindi andare in rovina. Una casa può essere abbandonata e destinata a decadere. Un'azienda può andare in rovina e fallire. La quarta parola è entrarci. Entrarci. Nella storia di oggi la trovate nella forma di non c'entro niente. Ovvero non ho nulla a che fare con questo. Non sono responsabile di questo. Utilizziamo questa espressione per sottolineare il fatto che non abbiamo alcuna relazione con una determinata situazione. Di solito una situazione spiacevole. Non c'entro nulla con il furto. Non sono stata io. Bene, queste erano le parole chiave. Ora mettetevi comodi e preparatevi ad ascoltare l'episodio di oggi. Il palazzo maledetto. Palazzo Dario venduto dopo anni a 18 milioni di euro. Ecco, un'altra bufala su di me. Sono anni che sopporto notizie false sul mio conto. Mi chiamano il palazzo maledetto e si dice che chiunque mi compri o venga a vivere qui tra le mie mura faccia una brutta fine. A quanto pare, se vieni a vivere qui, morirai in modo violento o finirai in bancarotta. Ve assicuro che non è così. Sono tutte dicerie, complete falsità. Oggi voglio spiegarlo una volta per tutte. Ma partiamo dall'inizio. La mia storia comincia molti anni fa. Sono piuttosto vecchio, effettivamente. Ho quasi sei secoli. Non proprio un giovanotto. Dunque, sono nato nel 1478. Sono una delle molte idee di Giovanni Dario e sono stato progettato e realizzato dall'architetto Pietro Lombardo. Devo dire che l'architetto ha fatto proprio un bel lavoro. Sono uno dei palazzi più belli di tutta Venezia. Sono alto e stretto. Mi riconoscete ancora oggi per la mia particolare facciata, ricoperta di marmo e con dei bellissimi elementi tondeggianti. Faccio proprio la mia bella figura. Ma torniamo alla storia. Come dicevo, il mio primo proprietario è stato Giovanni Dario, un uomo molto importante e influente in città. Difatti, ai miei pieti sono stato inciso con l'iscrizione in latino Urbis Genio Ioannes Darius, ovvero Giovanni Dario in onore del genio della città. Alla sua morte mi ha ereditato sua figlia Marietta, sposata con un mercante di nome Vincenzo. Marietta era davvero una brava padrona di casa. Peccato che sia morta. Aveva 39 anni. La gente dice che è morta molto giovane, troppo giovane. Ma considerate che i 39 anni di allora non erano come i 39 di oggi. Un tempo la gente moriva prima. Successivamente sono quindi diventato proprietà del marito di Marietta Vincenzo, più precisamente Vincenzo Barbaro. Ah, la famiglia Barbaro. Bei tempi quelli. Sono rimasto con loro per un sacco di tempo, fino al 1659. E non è mai successo nulla di strano. Fatta eccezione per Giacomo, un discendente di Marietta e Vincenzo. Lui è morto in combattimento durante una guerra. Da quel giorno alcuni veneziani anagrammano l'iscrizione sulla mia facciata in modo particolare. Subruina insidiosa genero. Che tradotta sarebbe una cosa come io abito in un'insidiosa rovina. E da qui la leggenda che chi abita qui andrà in rovina. Ma io non sono d'accordo e la mia storia lo dimostra. Soliti complottisti. Finisce poi l'era della famiglia Barbaro. E da lì sono passato un po' tra le mani di tutti. Ho avuto un sacco di proprietari. Un certo Arbit Abdol mi ha acquistato all'inizio del XIX secolo. La gente dice che era un ricco mercante che una volta entrato a vivere qui ha cominciato ad avere sfortuna negli affari fino ad andare in rovina. La gente dice così ma le prove non ci sono. Nel 1837 Abdol mi ha venduto per sole 480 sterline a Rodon Brown. Lo storico Brown mi ha rimesso a nuovo ristrutturandomi completamente. Credo però che gli sia costato parecchio e già nel 1842 mi ha dovuto vendere a un conte ungherese. Ho saputo che Brown è mancato qualche anno più avanti. La gente dice che sia morto qui ma si sbaglia. È successo dal mio collega Palazzo Gussoni Grimani della Vida. Io non c'entro niente. L'ungherese poi mi ha venduto a un certo tenente Marshall, un irlandese. E poi è arrivata lei. Sono stato ereditato dalla Contessa Isabel a inizio novecento. Una gran donna quella. Quando c'era lei c'erano sempre un sacco di artisti che giravano per di qui. Monet vi dice qualcosa? Dopo la seconda guerra mondiale è arrivato il turno del milionario. Tale Charles Briggs. Si è trasferito qui nel 1962. Ma dopo soli quattro giorni è arrivata la polizia italiana e gli ha chiesto di lasciare il paese. Ancora una volta? Io non c'entro niente. Poi nel 1968 è arrivato il conte Filippo Giordano delle Lanze. Ecco lui effettivamente ha fatto una brutta fine. Lo ammetto. Il suo corpo è stato trovato con il cranio fracassato in camera da letto. Un suo amante lo ha ucciso senza pietà. Mi ricordo ancora le grida della cameriera. Vabbè, dimentichiamo questa brutta faccenda e andiamo avanti. Sono stato anche proprietà di Christopher Sebastian Lambert, il manager del gruppo Rock. Anche lui è morto poi. Ma io non c'entro niente. Abusava di droghe. Non c'è nessuna maledizione qui. Poi è toccato il turno di Fabrizio Ferrari nel 1978. Anche lui è morto in modo particolare. Ma non qui. È successo a Londra, in Inghilterra. Incolpate qualcun altro. Qualche altro palazzo. Ma non me. Nel 1985 sono stato venduto a un importante imprenditore italiano. Il signor Gardini che si è suicidato. In questo periodo è nata, infatti, questa faccenda della maledizione. Cadario, il palazzo maledetto dove tutti i proprietari muoiono in malo modo. Ma ancora una volta, non so più come dirlo, io non c'entro nulla. Quegli anni sono stati difficili per il signor Gardini, tra l'inchiesta di Mani Pulite, un'altra lunga storia italiana e il crack finanziario. E poi non si è suicidato qui, ma a Milano. Insomma, come avete capito, ho avuto tantissimi proprietari in questi sei secoli. Ma solo uno di questi è stato ucciso qui, tra le mie mura. Quindi non chiamatemi maledetto e venite a trovarmi o a comprarmi, se ne avete il coraggio. Fine! Ho deciso di raccontare questa storia proprio perché ho letto la notizia della vendita di Cadario la settimana scorsa. Un'altra bugia. L'edificio è solo in manutenzione. Potete fare un tour del palazzo attraverso questo interessante video YouTube che ho trovato. Ve lo linko nel PDF. Spero che questa storia vi sia piaciuta. Esiste un palazzo, un edificio maldetto nella vostra città? Se sì, raccontatemi la storia. Bene, per oggi è tutto. Vi ricordo che trovate dei contenuti extra sul mio sito. Se volete che tratti uno specifico argomento o racconti una vostra storia, scrivetemi a italiando.learnitalian.gmail.com. Vi aspetto! Vi auguro una splendida giornata! Ci sentiamo al prossimo episodio di Italiando Storie. Ciao! Ciao!